Questa domenica 21 ottobre la campagna arriva in città con i prodotti di Campagna Amica. L'iniziativa promossa da Coldiretti in collaborazione col comune di Brescia porterà direttamente in Piazza Loggia le specialità migliori delle campagne bresciane. Dalle 9 alle 19 oltre 25 stand dei produttori agricoli affolleranno Piazza Loggia con verdure di stagione, formaggi, frutta, salumi ed ancora oli, farine, vino e tutti i prodotti della campagna. Credo che sia un'occasione per rinsaldare il nostro rapporto con i cittadini consumatori dando l'occasione a tutti di degustare, di acquistare ma soprattutto di conoscere direttamente i produttori e l'agricoltura per avere dei motivi in più per acquistare prodotti veri, prodotti agricoli bresciani. Direi che la varietà di prodotti di cui dispone la nostra agricoltura è incredibile e quindi quanti avranno l'occasione di venire domenica 21 a visitare il nostro mercato e i nostri produttori in Piazza Loggia avranno questa opportunità. Tante anche le iniziative previste durante la giornata dedicate ai più piccoli come la sgranatura del mais con attrezzature di un tempo, passeggiate su carro e cavallo e laboratori dedicati all'apprendimento con gli animali della fattoria. L'appuntamento sarà anche occasione solidale. In piazza saranno presenti i rappresentanti della Lega Filodoro che offriranno confezioni speciali di pasta artigianale i cui proventi verranno destinati interamente alle attività di assistenza per non vedenti e non udenti. In più quest'anno abbiamo anche questo importantissimo, a mio avviso, momento di solidarietà che credo debba sollecitare tutti noi a riflessioni vere e importanti. La Lega del Filodoro, a mio avviso, va sostenuta e in questa occasione ringrazio Coldiretti perché è riuscita ad inserire questa iniziativa nell'iniziativa. Mi auguro davvero che tutti possano avere la soddisfazione che meritano per l'impegno che hanno profuso.